In questo video scoprirai quali sono i migliori hosting economici. Sicuramente acquistare un hosting economico è la soluzione più adatta se hai intenzione di creare il tuo primo sito web. Il primo tra i migliori hosting economici è Kaleyweb, che ha diversi piani e servizi, in modo che qualunque tipo di utente può trovare il piano più adatto. Si parla di un piano base, fino ad arrivare ai piani più costosi, ma che offrono delle ottime prestazioni, come ad esempio server dedicati e VPS. Una cosa che devi considerare quando decidi acquistare un servizio di hosting è l'assistenza clienti. Per fortuna Kaleyweb ha un supporto efficace e completamente in italiano. Dal punto di vista delle prestazioni, considerando i suoi costi ridotti, non è per niente male, essendo che i suoi server sono situati in Italia. Ciò contribuisce a migliorare il tempo di caricamento. Per quanto riguarda i piani, se hai intenzione di creare il tuo primo sito web, puoi partire col piano base VPSTART, che ha un costo veramente basso. Bluehost, anch'esso, è tra i migliori hosting economici, tra i più acquistati in assoluto, infatti rende molto semplice gestire e creare siti web. Offre supporto clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, attraverso una chat online. Nonostante ciò, l'assistenza clienti è completamente in inglese. Infatti, ti consiglio Bluehost solo se parli bene l'inglese. Infatti, sia il sito web che l'assistenza sono completamente in inglese. Le prestazioni non sono proprio il massimo, ma considerando il suo basso costo non mi aspettavo altro. Ciò significa che dovrai sporsarti di più ad ottimizzare ulteriormente il tuo sito web. Per quanto riguarda i piani, il piano più economico ha un costo di sole 2,68 euro al mese. VH Hosting è tra i migliori hosting economici italiani. Offre dei servizi di hosting validi e un supporto clienti completamente in italiano. Inoltre, ha un ottimo rapporto prezzo-prestazioni. Se possiedi già un sito, anche VH Hosting offre il servizio di trasferimento del tuo sito web gratuitamente. Ha un pannello molto semplice ed intuitivo. Inoltre, è stato ottimizzato con WordPress. Infatti, è veramente semplice e veloce creare un sito web. Per quanto riguarda i piani, sia un solo sito web per acquistare il piano base chiamato WordPress Veloce 01, che ha un costo di 45 euro all'anno. Invece, se delideri un hosting WordPress multidominio, il piano più economico ha un costo di 155 euro all'anno. SiteRound è in assoluto il provider hosting che preferisco. Sono conosciuti per un ottimo supporto clienti e dei server veloci e sicuri. Come ho già detto in diversi video, a mio parere è fondamentale avere un sito web veloce e leggero al giorno d'oggi. Infatti, oltre ad offrire una migliore esperienza ai tuoi utenti, viene considerato le varie motori di ricerca come un fattore di posizionamento SEO, quindi ti aiuterà ad ottenere più traffico. SiteRound non si è accontentato di avere le serve veloci. Infatti, presenta diverse opzioni e funzioni di ottimizzazione delle prestazioni. Hanno sviluppato un plugin completamente gratuito chiamato SG Optimizer che in un solo clic potrai pulire e gestire la cache dinamica del tuo sito web, attivare la compressione Gzip, minificare HTML, CSS e JavaScript, abilitare l'HTPS, ottimizzare il database, ridurre il peso delle immagini. Inoltre, sono dotati di CDN, Content Delivery Network, che anche esso aiuterà a rendere il tuo sito web più veloce. Infatti, ha lo scopo di minimizzare il ritardo nel caricamento di una pagina del tuo sito, riducendo la distanza fisica tra l'utente e il server. In poche parole, ti aiuta a rendere il tuo sito web più veloce. Invece, riguardo alla sicurezza, dispone di diversi strumenti che renderanno il tuo sito web più sicuro, proteggendo da attacchi hacker, malware o spam. Oltre a ciò, SiteRound eseguirà automaticamente le backup giornalieri, in modo da avere, in caso di bisogno, sempre una copia del tuo sito web. Uno dei veri punti di forza di SiteRound è il supporto clienti, completamente in italiano, disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Attraverso una chat dal vivo o TIC, devo dire che i tempi di risposta sono molto brevi. Per quanto riguarda i piani, puoi partire tranquillamente dal piano base Startup. Bene, ti starei chiedendo qual è il migliore hosting economico. Personalmente, il mio servizio di hosting preferito è SiteRound, che offre delle prestazioni notevolmente migliori ed offre notevoli strumenti e opzioni di sicurezza. Se ti interessa scoprire le varie offerte di tutti gli hosting economici citati in questo video, trovi i vari link in descrizione. Grazie a tutti.